Salve a tutti signori, oggi dalla scogliera voglio dare un primo consiglio su come evitare le parrucchie a short jigging Sicuramente quello che ho fatto io e che ha dato sempre i risultati è quello di scegliere il giusto rapporto di recupero nel murinello che andiamo a mettere nella nostra canna da spinning Nella fattispecie nello short jigging è essenziale scegliere un murinello con un rapporto di recupero molto veloce Non fatevi ingannare da quelli che vi prendono dai negozianti che vi dicono mettete un 10.000 o un 14.000 con un rapporto di recupero 4-8-1 o 5-2-1 perché sono dei rapporti di recupero troppo lenti nonostante a livello fisico riescono comunque ad avvolgere quei 110 cm per crank Perché ci serve il rapporto di recupero veloce? Perché il rotore andrà più veloce a parità di giro di manetta avvolgendo meglio le spire lungo la bobina Questo ci risulta ovviamente in evitare parrucche Quindi prossimo consiglio, prossimo short